Siamo Cantù, centro sportivo comunale, oggi andiamo a conoscere i giovanissimi regionali A del Cantù San Paolo. La squadra era stata affidata a Ivan Sidoti che ha avuto qualche problema anche di spogliatoio e prima di Natale è stato esonerato dalla società. Ora guidata da Marco Cesana andiamo a conoscere giocatori e mister. Davide Costa, centrocampista. Davide Bianchi, attaccante. Edoardo Muscionico, centrocampista. Samuele Malachlida, ala. Alessio Picco, centrocampista. Catti Leonardo, centrocampista. Davide Ammarelli, difensore centrale. Corrado Cantaluppi, dirigente. Poi abbiamo l'allenatore Marco Cesana. Si dice che un mister è bravo se sa farsi amare dalla squadra, apprezzare dai tifosi, ha la stima della società e ottiene anche qualche risultato. Finora si sta riuscendo? Finora si, ma è molto 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 presto per dire di aver ottenuto risultati. Però diciamo che la cosa importante è la crescita del gruppo. Sei soddisfatto di questo? Del gruppo assolutamente si. Stiamo lavorando bene in settimana. Sono più per assurdo soddisfatto della settimana che della domenica. Grazie. 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 Grazie.